ciao e benvenuta in questo allenamento dedicato alla tonificazione total body con la fitball io sono marco caggiati ideatore dell'accademia online belle forma per sempre che sta migliorando la forma fisica e non solo di migliaia di donne e questa è enrica anche lei coach dell'accademia e ora prima di darci dentro mi raccomando metti un like al video lascia un commento e mi raccomando fallo perché se non lo fai vengo a trovarti a casa a farti fare mille barpees dietro fila e prima di questo un po di riscaldamento bene così faremo un riscaldamento della durata di 5 minuti bene così 30 secondi per ogni esercizio 5 esercizi per due giri bene così mi raccomando entra bene nel ritmo dell'esercizio e trovo un ritmo respiratorio all'interno del ritmo dell'esercizio così respira profondamente ancora 10 secondi al cambio esercizio ok batti bene le mani sotto la coscia e alza il ginocchio il più possibile fletti lanka così respira profondamente così piano piano senti che la frequenza cardiaca aumenta aumenta anche la temperatura corporea cinque minuti di riscaldamento per lavorare poi con la fit ball così cambio esercizio di nuovo doppio step touch e spingi le braccia verso il soffitto così ricordati di respirare profondamente ancora qualche secondo e cambio esercizio step touch e vai incrociare le braccia in avanti tenendo i palmi delle mani rivolte verso dietro ancora dieci secondi al cambio e cambio esercizio ancora dieci secondi poi si ricomincia dal primo esercizio e facciamo un altro giro ok vai a toccare la suola davanti e questo allenamento che facciamo oggi è un allenamento nella modalità che trovi in accademia gli allenamenti che trovi in accademia hanno una durata massima di 30 minuti e sono strutturati per le tue caratteristiche fisiche per la tua età per la tua altezza peso il modo di distribuire la massa grassa e tutte le altre tue caratteristiche specifiche cambio esercizio cambio esercizio di nuovo batti le mani sotto la coscia mentre continui mi raccomando a respirare profondamente così senti la temperatura corporea aumentare la frequenza cardiaca tutto si sta allineando per fare un ottimo allenamento per la football ultimi secondi e cambio nuovo doppio step touch spingi le mani bene verso il soffitto così pronta a cambiare step touch vai a incrociare in avanti sempre in mani palmi delle mani rivolti verso la parete che hai dietro ultimi 50 secondi di riscaldamento poi ti aspettano 7 esercizi da fare per 2 giri prima lavoreremo con una parte e poi con l'altra e ultimi 30 secondi di riscaldamento così bravissima ultimi 5 secondi e stop bravissima riscaldamento terminato adesso prendi la football e cominciamo a lavorare sull'esterno coscia su sugli abduttori pronta per partire 50 secondi di lavoro così ok mi raccomando in questo esercizio i piedi sono paralleli sempre in modo da lavorare sull'esterno coscia guardi devi sentire il tensore della fascia alata soprattutto che è un muscoletto piccolo che hai qua sotto sali fai una piccola pausa anche impercettibile ma devi fermare il movimento e poi scegli brava così ottimo ancora 20 secondi prima facciamo tutto il lato destro diciamo in questo giro e poi nel prossimo giro facciamo tutto il lato sinistro ultimi 10 secondi di esercizio ok ultima ripetizione adesso 10 secondi di recupero e per prendere la football per cambiare esercizio qua lavoriamo soprattutto sulle spalle pronta a partire 3 2 1 e via step touch e disegni un sorriso con la football così mi raccomando seguici in tutto l'allenamento se ti accorgi che non riesci a fare tutto quello che fa Enrica ti fermi qualche secondo e poi riparti perché ti ricordo che questi allenamenti sono fatti per tutte e per nessuna a differenza di quelli che puoi trovare in accademia dove c'è un percorso specifico sulle tue caratteristiche sulle tue necessità quindi è normale che questo possa essere troppo facile giusto troppo difficile bravissima ancora 10 secondi poi football a terra lavoriamo sugli addominali e stop a terra traiata di schiena bene così pronto a partire con una mano e basta via vai in una direzione col braccio sinistro o destro poco importa perché dopo nel secondo giro farai l'altro lato ok quando sali espira profondamente risucchia l'ombelico stringi i glutei porta bene lo sterno verso il cube chiuditi a riccio ed espira profondamente con la bocca a tubo crea una pressione intra addominale la pancia dura associa una contrazione volontaria al movimento ed espira forte espira e fuori bravissima 10 secondi ottimo ultima ripetizione e sali ai 10 secondi per metterti la palla in mezzo alle gambe lavoriamo sugli adduttori questa volta sull'interno coscia pronta via chiudi fai dei micro molleggi chiudi apri chiudi apri chiudi apri mi raccomando quando chiudi devi chiudere al massimo devi sentire lavorare tanto l'interno coscia come se dovessi far esplodere la palla la fai esplodere e molli la fai esplodere e molli così dei movimenti relativamente rapidi chiudi apri chiudi apri così bravissima ancora 20 secondi 10 secondi meno 5 4 3 2 1 bene così ora lavoriamo sulla muscolatura paravertebrale tutta la muscolatura posteriore posturale glutei muscoli della spalla ok su sta in isometria ferma bene braccio tese peso gamba tesa piede flesso a martello gamba extra ruotata quindi tutto in linea come se fosse una tavola brava fai bene attenzione dove hai appoggiato la mano e il piede che tiene a terra perché più sono in linea poi più è difficile tenere l'equilibrio più è larga la base d'appoggio più è facile bravissima mancano solo 10 secondi ok e stop in piedi di nuovo uno step touch solo che la palla questa volta va dal petto in avanti tenendo sempre bene i gomiti larghi all'altezza delle spalle pronta via tieni bene alta la palla così gomiti all'altezza delle spalle così ottimo ti ricordo che in accademia oltre al lavoro dedicato all'allenamento importantissimo c'è tutto il lavoro anche dedicato al miglioramento della consapevolezza nutrizionale i piani alimentari da seguire le ricette da fare e anche tutto il lavoro dedicato all'allenamento mentale per far sì che la tua motivazione sia sempre alta insieme alla motivazione e anche la costanza negli allenamenti e nell'alimentazione e stop ora un affondo con torsione del busto guarda bene cosa fa Enrica pronta per partire 3,2,1 via affondo e vai in torsione dalla parte della gamba che affonda che è sempre la stessa sempre la gamba destra bene avanti con la gamba destra e torsione in questo modo lavori anche con gli addominali lavorano cosce glutei e addominali anche un po' le spalle per tenere sulla palla espira quando sali inspiri scendi espiri quando sali bene così 15 secondi e con questo finiamo il primo giro ultima ripetizione sali e stop ora secondo giro quindi fai abduzione con la gamba opposta noi abbiamo cominciato con la gamba destra quindi sarà gamba sinistra pronta? via bene sali il più possibile blocchi e scendi sali blocchi e scendi sali più che puoi blocca piede parallelo al terreno e scendi devi sentire tensione qua nell'esterno coscia così bravissima blocca lavora con i muscoli addominali per mantenere bene l'equilibrio così espira quando sali inspira quando scendi mancano 10 secondi ultima ripetizione ultima ripetizione ok prendi la pitbull step touch e disegni con la palla un cerchio così ottimo quando ve lo ampio lo step touch spingi bene con le gambe spingi 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 più è ampio meglio è bravissima ottimo lavoro 20 secondi al cambio dell'esercizio meno 3 meno 2 meno 1 e crunch sulla pitbull usando il braccio opposto rispetto a quello che hai usato prima pronta via anche qui espira profondamente espiri quando sali inspiri quando scendi le succhie l'ombelico pancia dura come il marmo e sali movimenti sempre sotto controllo così bravissimo mancano 20 secondi meno 10 5 4 3 2 1 in piedi con la palla in mezzo alle gambe qua facciamo una piccola variazione rispetto a prima poi alterni 3 secondi in cui provi a far esplodere la palla a un secondo in cui apri pronta via 1 2 3 e rilassi un attimo di nuovo chiudi e fai esplodere la palla 1 2 3 e apri di nuovo chiudi 1 forte 2 3 e apri di nuovo chiudi forte più forte 2 3 e apri via 1 2 3 e apri bravissima vai fai esplodere con la palla 1 2 3 e apri fai lavorare bene con l'interno coscia chiudi 1 2 3 e apri bravissima vai di nuovo 1 2 3 e apri penultima volta 1 2 3 e apri ultima volta stringi forte 1 2 3 e apri bravissima ora di nuovo sulle catene crociate quindi pancia sulla fitball alzi la gamba e braccio opposto rispetto a prima ok tira su bene la gamba tesa super tesa alza il braccio mettilo in linea con la colonna vertebrale e stai lì immobile gamba tesa e con 3 di forte glutea così continua a respirare profondamente anche se fai fatica perché il diaframma è lì bloccato sulla fitball gamba tesa piede flesso a martello mancano solo 10 secondi 3 2 1 in piedi step touch con la palla al petto mi raccomando tieni i gomiti alla altezza delle spalle pronta via così qua puoi anche stringere la palla diventa ancora più intenso come se potessi farla esplodere così lavori anche con i muscoli pettorali schiacciala mentre fai l'esercizio così schiaccia forte continua così che ormai siamo alla fine di questo esercizio e quasi anche alla fine della parte difficile dell'allenamento poi ci aspetta un po' di stretching ancora 5 secondi ok bravissima stop ora a fondo in avanti torsione del busto cambi la gamba rispetto al primo giro pronta via torsione bravissima sfiora bene col ginocchio della gamba dietro sfiora il terreno e guarda un punto fisso davanti a te per l'equilibrio addominale in tensione posturale risuffia l'ombelico bella stabile così e quando è ora di risalire spingi bene con il tallone in modo da lavorare maggiormente con i glutei fingi bene sul tallone ai risali occhio bene anche il ginocchio la linea che scende dal ginocchio della gamba avanti deve cascare tra l'inizio e la fine dei lacci ultimi 8 secondi di allenamento ultima ripetizione e stop bravissima wow ora metti giù la palla e stretching del quadricipite tallone verso il gluteo così bravissima hai fatto un ottimo lavoro adesso piano piano torniamo alla situazione iniziale quindi abbassiamo la temperatura corporea la frequenza cardiaca così mentre continui a respirare profondamente così ancora 5 4 3 2 1 e cambio così bravissima se non senti tensione avvicini entrambe le ginocchia se non senti ancora tensione tenendo fermo il busto vai indietro solo con la gamba in questo modo e vedrai che prima poi la senti se non la senti ancora stringi forte i glutei e la tensione arriva sicuramente ok giù lentamente ora gambe unite scendi vai verso la punta dei piedi così devi sentire tensione nella parte posteriore della coscia una tensione che va da 1 a 10 che è a 7 deve essere sempre un fastidio mai un dolore e quando senti che questo fastidio scema non è più a 7 ma a 6 a 5 vai un po' più giù quando espiri viene così ora piega le ginocchia e risali lentamente prima la zona lombare della schiena poi la zona dorsale piano piano poi la testa se ti gira la testa mi raccomando sali ancora più lentamente facciamo 3 respirazioni profonde inspira e fuori di nuovo dentro di nuovo fuori e per la terza ultima volta inspira introduci più aria possibile chiudi l'aria tra le mani qualche eventuale residuo di cattivo pensiero lo butti fuori da te insieme all'aria show perché adesso stai da dio e ti meriti una triplice pacca sulla spalla ancora a te questo momento di piacere di soddisfazione ti meriti anche un 5 virtuale 5 reale Enrica perché è stata bravissima e adesso goditi qualsiasi cosa tu andrai a fare dopo l'allenamento e noi ci vediamo in un altro video e noi ci vediamo Grazie.